Ragazzi oggi sono qua, guardate un po', quello è il passo del Turchino, bloccato ovviamente come sempre Sono qua a Genova nel bosco praticamente, dove c'è una delle aziende più tecnologiche della Liguria Loro producono componentistica in carbonio e andiamo a vedere come producono le bici Pedemonte Pai Oggi vi faccio vedere l'alta via che non mi verrà consegnata oggi perché c'è ancora un piccolo ritardo su alcune componentistiche Un manubrio insomma, una sciocchezza ma per fortuna oggi la vediamo dal vivo e vi faccio vedere come producono qua le biciclette fatte a mano Completamente in Italia a mano qua in Liguria a 50 metri dal mare e andiamo un po' a vedere Allora ragazzi, da qua nascono le bici, cioè proprio qua si parte col progetto, giusto? Giustissimo Cioè questa azienda si parte dal foglio bianco, si crea la bici e poi come vedrete dopo sotto c'è tutta la produzione finché non esce la bici finita Raccontaci un po' come funziona la progettazione di questa cosa, è incredibile questa cosa qua Allora intanto questa che bici è? Questa è cosa sarà che ancora qui è una fase un po' abbozzata Questa diventerà il nuovo modello della Rhinoceros che è un terraio un po' più particolare Niente, si parte da delle geometrie e qua io mi abbozzo un attimo come deve essere Così ho un'idea degli ingombri, insomma come devono stare le cose insieme e poi si decide di segnare i pezzi Ad esempio si arriva a questo che è in questo caso il nodo sterzo Perfetto, questo mi spiegavi che lo dovrai fare per ogni taglia, dovrai ridisegnarlo da zero Sì, fortunatamente sì o purtroppo non lo so Vabbè questo non lo so, io direi sfortunatamente perché ho visto come si disegna questo affare qua da roba da pazzi È un lavoro divertente Divertente ma... E questa è una 56 e sì Con questa metodologia che non è un telaio fasciato ma è più ai nesti Infatti qua vedi qui c'è il maschio che entrerà Ok, certo Però sì, qua siamo vincolati per ogni geometria, dobbiamo avere questa parte dedicata Già vedo che appunto la nuova Rinoceros avrà questo svaso qua sul telaio particolare Non vedo l'ora di vederla nel vivo Ma invece fammi un po' vedere l'altavia L'altavia che tra pochissimo riuscirò a pedalare Quindi questo è il fodero alto dell'altavia Sono i verticali dell'altavia che quest'anno abbiamo deciso di fare una gravel un po' diversa La più grande caratteristica, la prima che spicca all'occhio è aver unito i foderi verticali Riprendendo in questa zona anche le forme effettive del tubo orizzontale Perfetto, benissimo Poi questo lo vediamo proprio sulla produzione come verranno posate le pelli Come viene cotta e come viene fuori e poi il lavoro finito E questo, giusto per capirci, è come parte proprio la produzione della bici Totalmente fatta in Italia a mano Si parte proprio dal foglio bianco Non so come faccia, ha provato a spiegarmelo Non ci sono riusciti a capire Comunque parte dal foglio bianco La progettazione viene fatta sul computer e poi qua si stampano proprio i primi pezzi sul carbonio Sono le pelli queste, giusto? Ci sono i vari strati, direzionale, bilassiale, lo strato di pezzi Ora posso vedere le sterbe, 3K, 3K Allora che lavoro Vi faccio vedere In una busta c'è tutta la farciana in me Mamma mia che lavoro Questi qui appunto è lo stampo in alluminio dove viene posata la pelle e poi messa sotto pressione E viene cotta dentro questi forni qua Questa è la stratificazione, il primo strato è in catelle Quindi tu devi incrociare tutte le trame, giusto? Devo stratificarle, non sono incrociate, ho la trama in catelle Ok, questo è l'esterno, ok Sì, questa è la parte dove va all'interno il sacco, quindi quello deve racchiudere il sacco Ok, perfetto Poi deve mettere uno strato 2D e uno strato 2D a schiale Even qua, però questa è quella a filo che poi va a chiudere Ok, ok, che fa la copertura Che fa la copertura, perché il sacco va infilato dentro, va racchiuso qua dentro Ah, ok, e questo poi dà pressione e da dentro, fa pressione e spinge Spinge, con la copertura si cuociono assieme Si cuociono insieme I poderi sono a posto, adesso l'hai già tutto assemblato Sì, l'ho chiuso, ho messo dei rinforzi, delle cose Questa è la parte sopra, sempre fatta di tre strati Cioè il primo strato è sempre facendo Ok, certo, certo Quindi è molto rinforzato, anche perché stello in grado deve essere un po' più Certo Cioè tanti rinforzi nei punti più critici Ah, ok, perfetto E adesso lo chiudete Guardate Quindi lo stampo adesso è appena uscito dal forno Sì, è uscito all'uno Vi garantisco che è ancora bello È ancora caldo Bello, sì Struttamento No, 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 no No, 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 va benissimo Ma eccolo qua appena sfornato E questo è il pezzo dell'altavia Sì Aspetta che se lo... E questo? Appena uscito dallo stampo questo Odero verticale dell'altavia Ma che bella è sta binchio Ma è spettacolare Allora la mettiamo su senza colla per far vedere Certo Ah, ok A questo punto poi cosa, in teoria, cosa dovresti fare? Ho metto tutta la bicomponente dove va insieme i vari pezzi Sì Quindi qua così è... Il numero è crudo Lo rincolliamo Per aspettare con tutte le misure Quindi angolo, tubo sterzo Ok, ecco, vedi Distanza orizzontale, altezza Che figata E qua dentro questo è un primo forno, diciamo Questo che temperatura fa? Cioè, cosa fa? Questo fa 80 gradi E sta per far asciugare prima la bicomponente Ok, bellissimo Ecco, questa è la parte forte, interessante Proprio che qui nasce il telaio E' uscito dal forno quello che abbiamo visto prima E' questo qua Viene carteggiato Per togliere tutto gli eccessi Dare magari alcune forme Come nella lucella E così è carteggiato pronto per essere fasciato Dopo appunto che hai assemblato il telaio così Che sono, diciamo, questa è una resina di appoggio Per farci la radite E' giusto per tenerla in sesta Per tenerla assieme Poi ci metti questi che vanno a proprio A coprire Che vanno proprio, esatto Che vanno proprio a irrobustire e a fissare tutti gli snodi Tutti questi snodi qui E il risultato, diciamo, che è questo Cioè, proprio tutte le pelli che incrociano Dice che almeno Sono 4 strati Per ogni incrocio Poi c'è la sovrapposizione Che praticamente qua Ce ne saranno 12 4, 8 e 12 Certo E poi appunto Anche all'interno la stessa cosa Cioè Una figata totale Quindi a questo punto Se non lo sta facendo il vuoto Praticamente La cicchetta va all'interno Ci sono questi sacchi qua Che vanno Praticamente all'interno dei tubi Ok C'è uno qua Poi uno che fa Gira raggiù di qua Poi dal tubo stella Ce ne sono due Che vanno carico Ok Ah che vanno all'interno Vanno all'interno Questi qua sono per gonfiare Perché quando fai il vuoto Il sacco tira Certo Soffiando qua Che è quello che va dentro qua Quindi che la sta tirando Ok, ok Adesso si esatto Praticamente Soffiando qua Si allarga qua in fondo Certo Mi andrebbe a stringere I due che vanno Ok Sul pezzo qua Quindi per la faccia Di una volta soffiato qua Io soffio di nuovo di qua E dentro Che mi allarga Mi allarga di nuovo In modo che c'è un passaggio D'aria Da creare Poi vedo che Qua avete Questa ad esempio C'è una riparazione Perché voi fate anche Le riparazioni giustamente Quindi Lui ha danneggiato L'orizzontale Era spaccata E ho fatto il suo rinforzo Cioè Catteggiato Ha fatto il suo rinforzo Ah ok Perfetto Sì Finito Dopo la Sì Dopo la fasciatura Pronto diciamo Da verniciare Pronto da verniciare Quindi Qui finisce La parte che fanno Qua all'interno Perché poi La verniciatura Viene fatta In un'altra sede Qui vicino Ma in un'altra sede E qui sono tutti i telai Pronti Per essere Verniciati Ma adesso Andiamo a vedere L'altavia ragazzi Che è in fase Di Assemblaggio Allora Mi stanno Montando Questa sarà Proprio La mia Altavia Questa bici Sarà tutta Montata Campagnolo Con ruote Campagnolo E anche Questo Sarà per me Una Novità Perché appunto Non ho mai Utilizzato Cambio Campagnolo Questa La bici Gravel E quindi Una questione Un po' particolare Già vedo Che ha Una Monocorona Davanti Adesso mi vado A vedere Che numeri ha Perché ho già paura In più Questa forcella Qui Ha La possibilità Di cambiare Offset Perciò Spostare la ruota In avanti E indietro Ma il colore È un qualcosa Di incredibile È davvero Bellissima Fatta davvero Davvero Bene Come avete visto È fatta Tutta Dalla Alla Z Qua dentro Pitta Andiamo Un po' Vedere Che Che corona Mi monta Che ho già paura Un 44 Qua già abbiamo Un pacco Che non è enorme Quindi Qui Diciamo che Hanno grosse aspettative Sulla mia gamba Perché Un 44 Con Un pacco Pignoni Così Comunque Ho anche le ruote Di Campagnolo Sono Incredibili La bici Viene montata fuori Da paura Viene fuori Una bestia Spettacolo Come avete visto Le bici Vengono prodotte Tutto dall'inizio Alla fine Qua in Italia Partendo dal Foglio Di carbonio Vero spettacolo Non vedo l'ora Di salire Sulla mia Altavia Vedrete dove Vi porto Con l'altavia Ciao Grazie a tutti